Io credo che sia naturale aspettarsi per un governo di centrodestra che le piazze siano più sensibili, che ci siano più manifestazioni. Io vorrei ricordare che appena si è insediato il governo Meloni, la retorica di una parte vicina a queste piazze era quella per la quale ci sarebbe stato un governo fascista nel paese. Tutto ciò premesso, io non credo ci sia un'emergenza da questo punto di vista, credo che le manifestazioni siano un fatto ordinario in un paese democratico e chi governa deve metterle in conto. Io stesso governo una regione molto complicata, se fossi preoccupato delle manifestazioni probabilmente non riuscirei a governarla come cerco di fare. Ce le metto in conto, è una cosa che va messa in conto da chi governa. Poi va bene il Presidente del Consiglio a invitare a non sottovalutare quello che sta succedendo, ma non credo ci sia un'emergenza nel paese su questo.